Il comune è proprietario dell'immobile e quindi il proprietario è una questione giuridica, ha diritto di alienare o meno la porzione di immobile. Certo dispiace che si era pensato e si era condiviso un progetto e che questo progetto adesso dovrà essere ripensato, rimodulato e a questo punto vi faccio anche una battuta perché no, magari puntiamo anche le lancette dell'orologio, non vorrei che anche l'ex tribunale, la parte del Media Museum fosse alienata. Un'ironia amara quella di Carla Tiboni, presidente della fondazione Tiboni alla luce della vendita di un'ala dell'ex tribunale di Pescara che ospita il Media Museum. Una carel questa che va avanti da un po' di tempo tra comune e fondazione, l'assessore al patrimonio Maria Rita Carotta. Allora la parte che attualmente non è occupata dell'ex tribunale che è sede anche del Media Museum è stata inserita nel piano delle alienazioni perché c'è stato un interessamento da parte dell'archivio di Stato e della sovrintendenza archivistica che a seguito di alcuni bandi del PNR ci ha rappresentato la possibilità che quella possa diventare la sede del loro ufficio di zona. Io penso che opportunità del genere possano costituire una risorsa per la nostra amministrazione, quindi più che pensare ad eventuali polemiche io penso che potrebbe essere molto utile portare dei contributi, ricercare delle soluzioni, le migliori soluzioni possibili affinché tutti i progetti si possano realizzare nell'interesse della città e dei cittadini. Il Media Museum, chiamiamolo anche con il nuovo nome che sarà quello del progetto, il MOC, era stato pensato nella sua interezza nella struttura dell'ex tribunale e so da notizie di stampa che il Consiglio Comunale ha approvato la delibera di alienazione dell'ala est del Media Museum, anzi dell'ex tribunale. E' naturale che viene stravolta in questo modo l'unitarietà del progetto, ricordiamolo che è stato pensato e pagato dalla Fondazione Tiboni in quell'area della città che va completamente riqualificata perché, come sapete, la settimana scorsa il Media Museum ha subito la visita dei ladri. Intanto, in occasione della ricorrenza del cinquantesimo anniversario della morte di Flaiano, l'amministrazione comunale ricorderà lo scrittore e sceneggiatore con un evento a cui parteciperanno diversi ospiti, tra i quali il Ministro della Cultura, Gennaro San Giuliano, l'assessore Alfredo Cremonese. Noi abbiamo voluto dedicargli una giornata in sala consigliare, il 18, dalle 15 alle 17, tutta la cittadinanza invitata perché riteniamo che sia uno dei più prestigiosi esponenti della nostra città.